La flat tax non riguarda Berlusconi o i milionari. Nella proposta di legge che abbiamo depositato, perché molti commentatori manco l'hanno letta, si parla di famiglie. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ne parla ogni volta che può, perché la flat tax è da sempre uno dei punti di forza della sua proposta politica. E infatti, anche nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre, è uno dei temi che più divide il suo schieramento, quello di centrodestra, dagli altri. In questo episodio, Massimiliano Iattoni dalla Zen della redazione Economia ci illustra quali sono le posizioni in campo, mentre il professor Tommaso Monacelli dell'Università Bocconi di Milano ci spiega senso, vantaggi e svantaggi di questa tassa piatta. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 12 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi, con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Massimiliano Iattoni dalla Zen, che cos'è la flat tax? La flat tax è un metodo di tassazione dei redditi non progressivo, cioè prevede una aliquota uguale per tutti, tradotta in italiano è tassa piatta perché appunto appiattisce su un'unica aliquota la progressività dell'imposta dovuta. La flat tax è quindi diversa dal sistema attuale, ridefinito dalla legge di bilancio del 2022 che prevede quattro aliquote e relativi scaglioni IRPEF. E questo in sintonia va ricordato con quello che prevede la nostra Costituzione, che all'articolo 53 dice che l'imposta che i cittadini sono tenuti a versare allo Stato deve essere proporzionale all'aumentare della loro possibilità economica. In altre parole, l'imposta deve crescere con il crescere del reddito. Questo dunque tecnicamente non avviene con la flat tax. Che in qualche modo in Italia già esiste. È vero, la flat tax già esiste in Italia ma si applica soltanto alle partite IVA, che hanno ricavi inferiori ai 65.000 euro. Queste possono rientrare nel regime forfettario al 15% che scende addirittura al 5% di aliquota per i primi 5 anni se si tratta di una nuova attività. Questi contribuenti non pagano l'IRPEF, né l'IVA, né l'IRAP e non sono soggetti agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità con cui l'Agenzia delle Entrate tenta di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea dei redditi. Riassumendo, chi aderisce al regime forfettario versa una tassa unica, è soggetto cioè a una sola imposta sostitutiva del 15% che assorbe tutte le altre tipologie di imposte generalmente pagate in contabilità ordinaria. Sono esclusi invece i contributi IMSS che si continuano a versare secondo la propria attività con le aliquote previste dal proprio regime previdenziale. Per capire l'origine e il senso della flat tax, Francesco Giambertone è andato dal professor Stefano Monacelli, che all'Università Bocconi di Milano insegna macroeconomia e che, per prima cosa, di questo tipo di tassa racconta l'applicazione in paesi meno al centro dell'attenzione. La storia della flat tax nasce principalmente negli Stati Uniti, ma se vogliamo è presente molto nel dibattito corrente perché è stata applicata, anche se poi cancellata in alcuni casi, in diversi paesi dell'est europeo tra gli anni 90 e gli anni 2000. È diventata popolare perché apparentemente in quei paesi si è osservato un effetto di incremento della crescita economica, ma in realtà da un punto di vista di economista e da un punto di vista scientifico è impossibile concludere che l'effetto di maggior crescita economica sia stato dovuto all'introduzione della flat tax. Il professor Monacelli lo spiega con un esempio. È un caso scuola tipicamente la Slovacchia, che ha introdotto la flat tax nel 2004, poi l'ha cancellata nel 2013, ma nel 2004 contemporaneamente la Slovacchia è anche entrata nell'Unione Europea. Certo la crescita economica è aumentata molto in Slovacchia, fino al 10% di crescita del PIL, la disoccupazione è calata dal 20% al 10%, ma l'ingresso dell'Unione Europea ha voluto dire un'enorme espansione dei mercati, di accesso ai mercati al commercio internazionale per la Slovacchia e tutta un'altra serie di riforme, di liberalizzazione dei mercati, di apertura agli scambi, di riduzione del costo del lavoro, eccetera, sono state introdotte contemporaneamente e quindi scientificamente poter dire che gli effetti su disoccupazione e aumento della crescita economica siano stati dovuti alla flat tax è impossibile e non abbiamo studi puliti che ci possano dire che la flat tax in sé possa condurre ad una maggiore crescita economica. Quello che invece per il professor Monacelli è certo è un altro effetto della flat tax. Inevitabile è l'effetto di incremento della disuguaglianza. La flat tax significativamente riduce il grado di progressività del sistema fiscale e questo effetto può essere corretto introducendo ampie zone di esenzione. Per cui dipende anche moltissimo da come il meccanismo in generale della flat tax viene disegnato. Quanto è ampia la zona di esenzione e qual è il livello dell'aliquità unica. 15%, 20%, 30%. Ci sono paesi in cui la flat tax unica è stata introdotta anche al 45%. Ecco. Il punto, secondo il professor Monacelli, è che la flat tax finisce direttamente ma anche indirettamente per arricchire chi è già più ricco. Esiste una quote molto famosa che dice che è possibile avere una flat tax, la possiamo avere, è possibile avere la democrazia ma è molto difficile avere democrazia e flat tax perché gli effetti dell'introduzione della flat tax in senso stretto sono fortemente regressivi, cioè redistributivi al contrario e che il sistema politico democratico possa reggere queste spinte è molto difficile. Infatti alcuni di questi paesi dell'Europa dell'Est, per esempio la Slovacchia è un altro, appunto ancora un caso scuola, dopo qualche anno hanno cancellato la flat tax. Questo per quel che riguarda i singoli cittadini. E poi c'è la questione delle entrate per lo Stato. La flat tax produce normalmente, a meno che questa aliquota unica sia fissata a livelli molto elevati, ma penso che nessun politico avrebbe in mente di fare una cosa del genere. Infatti parliamo delle proposte di aliquote 20%, 15%, ci sono paesi dell'Est europeo che hanno introdotto appunto aliquote anche al 13%, come la Russia per esempio, la Serbia al 12%, anche se la Serbia poi l'ha cancellata. È evidente che questo produce una diminuzione del gettito fiscale, un incremento del deficit e del debito pubblico. I sostenitori della flat tax dicono però che non è necessariamente vero, a causa del cosiddetto effetto Laffer, dal cognome dell'economista americano che lo ha terrorizzato. Secondo Laffer, la flat tax introdotta a un livello basso con ampie soglie di esenzione stimola la crescita economica, che a sua volta produce più entrate fiscali e quindi la flat tax si paga da sola. È così? Non c'è nessuna evidenza purtroppo nella letteratura economica scientifica di questo effetto di Laffer, non ce n'è mai stata. Sembrerebbe dalla proposta della Lega, che è una delle proposte esemplari di flat tax, questa proposta produrrebbe un gettito di 94 miliardi l'anno con un calo di 58 miliardi rispetto a quello dell'IRPEF attuale. È vero che i fautori della fat tax sostengono che un sistema a un'aliquota unica apparentemente più semplice possa recuperare evasione, perché la presunta semplificazione aumenterebbe la disponibilità di famiglie e imprese a far emergere il reddito. Ma la relazione annuale sull'evasione del Ministero dell'Economia e della Finanza stima una perdita di gettito IRPEF da evasione circa di circa 38 miliardi, per cui se anche li recuperassimo tutti con la flat tax comunque mancherebbero ogni anno 20 miliardi da dover coprire e questo vorrebbe dire inevitabilmente o maggior debito pubblico, forse non è la cosa di cui proprio abbiamo bisogno in Italia, o tagli di spesa in direzioni che andrebbero dichiarate. Massimiliano, il professor Monacelli ci ha riportato in Italia. Quali sono le posizioni dei partiti sulla flat tax? L'unica coalizione a inserire nel programma elettorale la flat tax è quella di centrodestra. In realtà i partiti che compongono la coalizione hanno sull'argomento idee e proposte diverse. Alla fine la sintesi si è condensata in una generica flat tax incrementale. Cosa vuol dire? Vuole dire una tassa piatta solo sulla parte del reddito dichiarata in più rispetto all'anno precedente. La proposta del centrodestra poi prevede anche di alzare il tetto della flat tax per le partite IVA fino a 100 mila euro di fatturato. Di fatto, se vogliamo, questa è in prevalenza la proposta di Fratelli d'Italia, perché Forza Italia ha sempre parlato di una tassa piatta unica per tutti al 23%, cioè l'aliquota più bassa dei quattro scaglioni IRPEF introdotti dalla riforma del governo Draghi. Come si sa, invece, la Lega da anni propone un'aliquota unica al 15%. Il DDL Siri, con cui la Lega presentava la sua flat tax al 15% nel 2020, ha introdotto una sorta di clausola di salvaguardia, in modo tale che i redditi più bassi, che godono i detrazioni, non le perdano. Guardando agli altri schieramenti, il PD punta sulla totale decontribuzione delle assunzioni stabili per gli under 35. I 5 Stelle insistono su super bonus e cashback. Il terzo polo propone detassazione completa fino ai 25 anni e al 50% fino ai 30. Qual è, invece, la loro posizione sulla flat tax? Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non la prendono in considerazione nei loro programmi elettorali. Se interrogati sull'argomento, l'hanno spesso definita una tassa iniqua. Per quanto riguarda il terzo polo, Renzi sottolinea che sarebbe una tassa con tratti di incostituzionalità, mentre Calenda dice che il centrodestra con la tassa piatta vuole sostanzialmente avvantaggiare i più ricchi. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari, in redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.